in questo video andiamo a parlare di un prodotto ovvero uno smartwatch che ho acquistato sul portale temu uno smartwatch abbastanza basilare per la verità ne ho comprati diversi prodotti molto simili per prezzo e per caratteristiche volevo vedere quali sono diciamo le funzioni principali di questi prodotti che costano davvero poco volevo capire se sono più o meno interessanti il primo modello che ho testato in questo caso è di un marchio abbastanza sconosciuto meglio è di un marchio impronunciabile infatti viene venduto su temo dal ledsweb ed è più che altro il modello g25 la confezione di vendita è questa su temo ci sono tanti smartwatch che vengono venduti da rivenditori differenti ma alla fine utilizzano lo stesso software e viene scaricata la stessa applicazione direttamente sul play store in caso di android ho scelto questo nella colorazione nera pagato all'incirca 22 euro la confezione di vendita non riporta nessuna caratteristica tecnica del prodotto solamente alcune funzioni principali all'interno della confezione di vendita troviamo ovviamente lo smartwatch che viene protetto da una pellicola di protezione che ovviamente poi va rimossa non è non troviamo però nessuna pellicola pre applicata nemmeno in plastica quindi il display così come lo troviamo all'interno della stessa confezione troviamo un cavetto di ricarica con sistema usb da un lato usb normale e con due pin a diodi che vengono agganciati direttamente nella parte posteriore del prodotto qui in basso in più troviamo al di sotto della confezione anche una piccola guida rapida per quanto riguarda il funzionamento del prodotto e per quanto riguarda l'applicazione che va scaricata è uno smartwatch dalle caratteristiche piuttosto semplici prodotto abbastanza semplice perché parliamo di un prezzo che su temo si aggira sulle 23 24 euro su alcuni siti invece l'ho trovato anche ad un prezzo maggiore addirittura su un sito tedesco si parla di circa 50 euro è un prodotto che comunque annovera alcune caratteristiche interessanti innanzitutto il certificato di impermeabilità ip67 che non è una cosa da poco quindi lo si può utilizzare tranquillamente anche sotto sotto l'acqua per circa 30 minuti fino ad un metro un metro e mezzo di profondità il modello come abbiamo detto il g25 colorazione nera cinturino in silicone è un cinturino a sgancio non rapido quello classico da 20 mm quindi possiamo sostituirlo anche con dei cinturini di ricambio che possiamo trovare anche su amazon interessante il fatto che ci siano due perni di aggancio e che su uno di questi come vediamo c'è un pirinculo che fa sì che poi venga bloccato all'interno di queste di queste fessure in modo tale che il cinturino arriva anche incastrato ben saldamente al nostro polso inoltre il display che non è di tipo amoled lo si evidenzia subito è un display tft quindi un servizio display lcd da 1.39 pollici quindi sul polso diciamo calza abbastanza bene come vediamo calza perfettamente e sul polso non di enormi dimensioni come vediamo diciamo si trova abbastanza bene ovviamente l'accensione dello stesso funziona anche tramite diciamo il la rotazione del polso non esiste invece la possibilità di svegliarlo tramite un doppio tocco sul display ma lo possiamo svegliare o meglio risvegliare anche tramite i tasti dedicati su tema ho scelto tutti smartwatch con le medesime caratteristiche ovvero degli active tracker con display circolare perché sono quelli che più considero simili ad un orologio ovviamente il display è di tipo touch funziona piuttosto bene nessun tipo di problema può rispondere o effettuare telefonate tramite collegamento a bluetooth con il telefono che andremo a collegare ed è alla fine un dispositivo che pur costando poco ha delle caratteristiche interessanti è abbastanza luminoso non tantissimo ovviamente sotto la luce diretta del sole durante gli allenamenti tende un po se confrontato poi con display amoled si capisce ci si rende conto subito che un display di tipo lcd nemmeno ips ma tft però la luminosità è abbastanza elevata in particolare la cinchia del cinturino in oltre è in metallo ovviamente sotto ci sono i diodi per la ricarica e i sensori qui è presente il sulla parte laterale è presente il foro per il microfono e per la cassa dell'altoparlante troviamo poi due tasti fisici un in alto che oltre a poter diciamo accendere il display se tenuto premuto in particolare permette direttamente di spegnere il dispositivo e il tasto in basso che permette di accendere o di spegnere il dispositivo e tenendolo premuto invece non succede niente quando invece ci troviamo all'interno di un menu in questo caso possiamo tenendo pigiato il tasto in basso accedere direttamente agli allenamenti per tornare indietro possiamo invece fare uno swipe da sinistra verso destra facendo uno swipe dall'alto verso il basso accediamo in particolare ai toggle rapidi che permettono di visualizzare se il dispositivo è connesso il livello della batteria poi la modalità di poter togliere o meno la suoneria la vibrazione in questo caso permette di cercare direttamente il dispositivo infatti avvertiremo una vibrazione del dello smartwatch poi continuando con i toggle rapidi abbiamo in particolare quello che permette di effettuare il risparmio energetico quindi per poter aumentare l'autonomia che comunque è piuttosto elevata nonostante la batteria sia di soli 220 mAh il dispositivo è leggerissimo meno di 30 grammi abbiamo poi quest'altro toggle che permette di vedere le informazioni del dispositivo poi abbiamo in particolare questo che permette di entrare nelle impostazioni poi scorrendo abbiamo quello che permette di vedere se il telefono è connesso questo che cambia i vari menu che delle impostazioni la modalità non disturbare questo tasto che permette di far funzionare la rotazione o meno del che permette l'accensione del dispositivo alla rotazione del del polso e questo che invece permette di regolare la luminosità che come vediamo è solamente di tipo manuale una volta impostato il livello massimo devo dire che è abbastanza luminoso dato che è diciamo coadiuvato l'impostazione su di una schermata nera alla fine con questa schermata nera e con questa luminosità sembra addirittura che sia un display amoled perché la luminosità comunque è davvero elevata e tanto che in particolare all'aperto se non ci troviamo sotto la luce diretta del sole comunque il display è abbastanza visibile per quanto riguarda gli sport sono tantissimi più di 123 modalità sportive che possiamo come vediamo scorrere e ce ne sono davvero di tutti i gusti e di tutte le modalità sia sport singoli che sport in particolare all'aperto che al chiuso insieme ad altre persone quindi con squadre ce ne sono veramente tantissimi da poter effettuare per far partire poi una modalità sportiva parte una sorta di contro la rovescia quando andiamo a cliccare sulla modalità sportiva e poi abbiamo sempre la stessa schermata quindi per qualunque attività sportiva effettuiamo la schermata che va a comparire sempre la stessa dove in alto compare i battiti cardiaci le calorie e poi il tempo scorrendo poi qui verso sinistra possiamo interrompere la modalità o riprendere se invece scorriamo verso destra abbiamo invece la modalità di ascolto la musica che ci permette di regolare direttamente la musica anche mentre effettuiamo le l'attività sportiva per interrompere possiamo sia tenere premuto qui in alto oppure direttamente schiacciare pigiare sul tasto e poi andremo a salvare le informazioni che non vengono riportate direttamente diciamo sul sull'orologio quindi una volta che andiamo a salvare l'orologio ci dice solo alcune informazioni generali tutte le altre informazioni le andremo a trovare direttamente sull'app scaricata con uno swipe invece tornando sempre all'impostazione generale con lo swipe da sinistra verso destra accediamo a quest'altro menu che ci mostra l'orologio la data poi ci viene mostrato un altro menu con l'orologio data la possibilità di accedere direttamente alle impostazioni e alle telefonate e poi qui un'altra serie di un altro menu che ci consente di accedere direttamente alle impostazioni del telefono oppure possiamo accedere al cronometro all'assistente vocale che si collega con l'assistente vocale del telefono quindi praticamente noi parliamo all'orologio che ovviamente deve essere collegato soprattutto con il nostro dispositivo e poi tramite l'assistente vocale dello smartphone ci risponderà direttamente poi sull'orologio e quindi questo è un'altra sorta di menu da qui possiamo accedere direttamente a tutte le modalità sportive che vogliamo effettuare invece scorrendo dal basso verso l'alto accediamo direttamente al campo delle notifiche riceve tutte le notifiche sia quelle telefoniche che sms che anche quelli di whatsapp telegram eccetera però la notifica ho notato che nel caso di desti molto lunghi viene troncata non c'è la possibilità ovviamente di rispondere direttamente al messaggio in questo caso mi sono mandato un whatsapp ci compare ovviamente il nome del contatto che ci ha mandato il whatsapp in questo caso ho mandato anche due messaggi alla stessa persona come vediamo ci sono quindi ci viene indicato due perché sono due i messaggi possiamo direttamente cancellare il messaggio come vediamo in particolare possiamo scorrere sul messaggio non possiamo però rispondere come abbiamo detto al messaggio per accedere ovviamente al campo delle notifiche scorriamo qui in basso qui ci viene mostrato l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto andando a cliccare possiamo in particolare vedere diciamo i due messaggi che abbiamo ricevuto quindi in particolare compare prima il messaggio in particolare quando effettuiamo due messaggi sullo stesso contatto come vediamo dal loro l'orologio compare solamente l'ultimo messaggio quindi io ho mandato due messaggi al contatto il primo messaggio praticamente non è possibile visualizzarlo sull'orologio andremo a visualizzare solo il secondo messaggio però come vediamo qui compare il numero 2 che ci indica proprio che abbiamo due messaggi andando poi a cliccare possiamo solamente cancellare ma non possiamo rispondere in nessun modo al messaggio in più vengono come dicevo prima troncati inoltre nel caso in cui noi cancelliamo direttamente i messaggi sul telefono questi non verranno automaticamente eliminati quindi come vediamo io ho eliminato il messaggio che mi sono mandato sul telefono però in particolare sul dispositivo meglio sull'orologio i messaggi rimangono ancora in memoria quindi l'unico modo per eliminare i messaggi di notifiche è quello di accedere direttamente al cestino qui in basso in questo modo verranno eliminati i messaggi effettuando invece uno swipe verso destra accedo ad una modalità che mi mostra le calorie la distanza e i passi effettuati scorrendo verso il basso la possibilità di vedere i passi durante la giornata e quelli settimanali direttamente sull'orologio con un altro swipe posso accedere direttamente alla modalità notte ovviamente io in questo caso ieri sera non ho avuto il dispositivo indossato però nel caso in particolare registra solamente la modalità sonno che se l'orologio viene ovviamente indossato è solo del giorno precedente quindi non conserva uno storico né settimanale né mensile delle ore di sonno effettuate scorrendo ancora verso verso destra abbiamo poi il lettore di battito cardiac con un registro settimanale che viene effettuato e la cosa strana è che il registro però non vale per la modalità sonno abbiamo poi anche la misurazione del pulsosimetro quindi la misurazione dell'ossigeno nel sangue e devo dire che sia a livello di battiti che per quanto riguarda il pulsosimetro sono abbastanza fedeli a quelli che ho registrato con il mio Garmin magari tente non ci mette più tempo per stabilirsi al valore normale però una volta effettuato quello riesce ad annoverarsi ad un buon punteggio c'è anche la misurazione della pressione arteriosa ovviamente in questo caso i valori minimi e massimi misurati non sono proprio precisissimi rispetto diciamo ad un dispositivo professionale poi scorrendo abbiamo anche il meteo che tarda in questo caso a sincronizzarsi direttamente con l'app dell'orologio diciamo che non è proprio ben sincronizzato poi scorrendo ancora possiamo accedere al menu del telefono che ci mostra la rubrica ovviamente sono tutti i contatti presenti nell'orologio poi abbiamo ancora la cronologia delle chiamate che sono ovviamente le chiamate che sono state effettuate in sincronizzazione con sempre l'orologio e infine poi c'è la tastiera che mi permette di poter direttamente effettuare una chiamata e come vediamo sto effettuando la chiamata e in particolare come vediamo arriva direttamente la telefonata sul nostro dispositivo ho la possibilità poi di chiudere la telefonata direttamente dall'orologio allo stesso modo quando riceviamo una telefonata possiamo rispondere o chiudere la stessa telefonata in più scorrendo sempre su tutti i menu abbiamo inoltre il menu delle attività di tutte le attività sportive il menu della musica e poi da qui possiamo andare a rimuovere o ad aggiungere altri componenti tramite l'app non possiamo aggiungerne altre di questi widget per quanto riguarda invece il campo delle impostazioni andando sul tasto in alto abbiamo l'esercizio quotidiano che è il menu che avevamo visto prima con il widget poi abbiamo la modalità telefono il battito cardiaco, l'ossigeno del sangue, la modalità sport la misura della pressione arteriosa la modalità sonno che è stata tradotta abbastanza male con addormentato il meteo, la musica, le notifiche, quindi messaggio abbiamo anche la possibilità di misurare la respirazione c'è la sveglia, l'assistente vocale in strumenti abbiamo il cronometro, il timer, la modalità di ricerca del telefono la telecamera remota che ci permette di comandare di effettuare gli scatti direttamente tramite l'orologio e la calcolatrice in più, in impostazioni abbiamo la possibilità di decidere i tipi di quadranti da utilizzare questi sono quelli che ho all'interno del dispositivo mi sembra di averne installati due e poi ne possiamo installare tantissimi altri tramite l'applicazione dedicata ad esempio questo l'ho scaricato direttamente dall'applicazione e ci sono veramente tante watch face anche alcune interessanti e carine come questa che è particolarmente bella inoltre su alcune di queste watch face possiamo come vediamo accedere direttamente al menu per esempio della telefonata al menu del meteo, al menu dell'orologio, lì dove è possibile cliccare sugli stessi in alcuni casi non rispondo, o meglio non possiamo entrare direttamente nella funzione dedicata però nel caso di alcuni watch face possiamo andare direttamente come in questo caso alla misura del cuore, alla misura delle calorie stranamente qui non registra, non va direttamente al menu dei passi questo è il livello della batteria, l'orologio, poi c'è qui la data eccetera sempre andando nel campo delle impostazioni sempre in quadrante tema, abbiamo la possibilità qui di impostare fino a tre temi diversi che sono diciamo le modalità con cui vengono visualizzati i diversi menu quindi il menu come vediamo cambia in queste impostazioni poi abbiamo la modalità di scelta della lingua dove è presente l'italiano la luminosità, il suono e vibrazione che mi dà la possibilità di gestire la vibrazione dell'orologio io ho impostato quella alta ed è davvero elevata poi la modalità intrattenimento che non ho capito che cosa vuol dire oppure la modalità silenzioso che va a disattivare la suoneria per le chiamate in arrivo poi c'è anche un impostatore della password o di cambiare la password di regolare l'accensione dell'orologio o tramite i pulsanti o anche tramite la rotazione del polso la modalità non disturbare per tutto il giorno o in modalità programmate il codice QR che va a scaricare direttamente l'app dal Play Store o dall'App Store poi nel sistema abbiamo la possibilità di riavviare e di spegnere il dispositivo e poi abbiamo qui le informazioni del dispositivo in questo caso il G25 se invece entriamo nel menu dell'app dedicata nel telefono in particolare dal Play Store dovremo andare a scaricare questo Glory Fit che è l'app dedicata che gestisce l'orologio una volta scaricata l'applicazione nel campo della home page è possibile visualizzare qui in alto a sinistra il meteo ci dà la possibilità di visualizzare il meteo con la provincia la possibilità di impostare i gradi Celsius o Fahrenheit ci dice anche la qualità dell'aria, l'umidità, i raggi UV e poi le condizioni e la temperatura fino a 7 giorni quindi abbastanza informazioni però andando a pigiare non abbiamo più la possibilità di entrare in singoli menu dedicati tornando indietro abbiamo in particolare qui la possibilità di gestire il collegamento tramite Bluetooth dell'orologio ci dice ovviamente che qui è collegato e sincronizzato questa è la modalità dei passi che sono stati effettuati oggi con l'obiettivo la distanza effettuata e le calorie consumate andando a pigiare possiamo vedere i dati giornali dei settimanali e mensili in più abbiamo la possibilità di entrare in una sorta di calendario che ci mostra il record in un giorno preciso poi abbiamo tutte le modalità sportive che sono state effettuate in questo caso per quanto riguarda i passi quindi andando a pigiare su di un campo specifico come vediamo non succede nulla possiamo solamente vedere i passi la distanza e le calorie consumate andando in altre fonti invece abbiamo tutti i record storici dei vari sport che abbiamo effettuato io ad esempio ho effettuato diciamo una corsa con la bici ma come vediamo qui in alto i record storici per quanto riguarda la corsa con la bici non compare compaiono solamente tutto ciò che in pratica sono le modalità sportive che vengono effettuate con la registrazione dei passi quindi tornando indietro abbiamo quindi la registrazione dei passi giornalieri settimanali e mensili e poi in basso abbiamo il menu relativo alla frequenza cardiaca che ci dà anche diciamo delle informazioni utili per quanto riguarda lo stato a riposo per quanto riguarda il tipo di allenamento che abbiamo effettuato il range di frequenza cardiaca che ci dice anche diciamo in particolare sulla base della frequenza cardiaca che cosa quali sono delle informazioni su quell'intervallo di frequenza cardiaca che è stata registrata poi andando a pigiare sui singoli menu come vediamo non compare nulla ma però in pratica ci dice un livello di percentuale in cui ci siamo trovati in uno stato di riposo, di allenamento blando, in uno stato di bruciagrassi per quanto riguarda la registrazione del battito cardiaco nell'arco della giornata ovviamente possiamo vedere anche il record che viene effettuato nei vari giorni poi tornando indietro c'è la modalità di registrazione del sonno in questo caso vado indietro e qui mi dice ad esempio in un grafico non vediamo posso tenendo pigiato vedere sulla base di questi grafici, di questi histogrammi che cosa corrisponde se sonno profondo o sonno fine ci dice poi il sonno profondo che è stato effettuato, il sonno leggero che è stato effettuato quanti minuti siamo stati svegli e addirittura per quanti minuti abbiamo avuto un movimento oculare rapido in più ci dà una qualità, un'analisi della qualità del sonno a seconda di come ha registrato lui quindi se c'è stato un sonno insufficiente ci dà in pratica un'analisi sulla base del sonno effettuato ci dice per esempio che abbiamo avuto un sonno insufficiente e che andiamo a letto troppo tardi tornando indietro abbiamo anche un grafico relativo alla pressione sanguina ed è l'unico elemento che a mio avviso non è molto esatto poi la registrazione dell'ossigeno del sangue anche qui come vediamo ci sono molti dati e molti parametri la misurazione può essere effettuata come vediamo durante tutto l'arco della giornata non solo in notturna e nonostante questo comunque l'autonomia è abbastanza elevata arriva tranquillamente anche a 5-6 giorni con molte modalità sportive effettuate poi qui in basso possiamo andare a impostare quali menu devono comparire nella home page poi se andiamo nella modalità sport abbiamo la possibilità di far partire direttamente dall'app sullo smartphone una determinata modalità sportiva quindi con la mappa relativa condizionimento e battito cardiaco ci dice anche il record poi andando a pigiare qui possiamo impostare la distanza la durata della nostra corsa oppure possiamo impostare il livello di calorie personalizzate che andremo a consumare in questo caso io vado sulla banda del ciclismo perché è qui che ho registrato un'attività sportiva andando a pigiare sul ciclismo mi vengono registrati due valori che ho registrato oggi quindi nel livello di dettagli ci dice i chilometri effettuati però in questo caso non ha registrato effettivamente i chilometri che sono stati effettuati con il ciclismo perché ho corso per circa 10 minuti effettuando 8 chilometri ma non sono stati stranamente registrati mi dice il tempo, il consumo delle calorie, la frequenza minima il battito cardiaco medio e il battito cardiaco massimo con un grafico anche della frequenza effettuata ma come vediamo non ha registrato i chilometri percorsi in tutti e due i casi come vediamo i chilometri percorsi non sono stati registrati in nessun modo e questi sono diciamo gli aspetti negativi dell'orologio nei record storici ho effettuato anche una modalità di attività sportiva che qui chiama allenamento per la forza che sarebbe un allenamento tramite pesistica e in tutte le misurazioni effettuate quindi in Italia mi dice le calorie consumate il tempo totale, il consumo calorico è sempre il battito minimo massimo e medio quindi per tutte le attività sportive praticamente il menu è sempre lo stesso da un lato il lettore di battiti cardiaci dall'altra ci dà una serie di informazioni tra cui in principal modo il tempo, il consumo di calorie la frequenza minima, massima e il battito cardiaco medio poi se andiamo in dispositivo ci dà alcune informazioni tra cui il livello della batteria la possibilità di gestire le chiamate bluetooth con l'orologio oppure ci dà la possibilità di scaricare i quadranti questi sono i quadranti che sono presenti direttamente sull'applicazione questi sono quelli che ho scaricato io e qui la possibilità di effettuare in particolare un quadrante personalizzato cioè possiamo impostare lo sfondo e anche il colore del carattere una cosa piuttosto interessante ad esempio scelgo questo sfondo metto come carattere il rosso ho impostato quindi il quadrante come diamo personalizzato e poi in basso vado a salvare oppure posso ripristinare quello predefinito nel caso in cui quindi vogliamo in pratica creare uno sfondo personalizzato posso anche impostare ad esempio questo vado sul campo ritaglia scelgo qual è il colore del carattere che più mi interessa poi vado qui preparo come vediamo viene effettuato una sorta di conteggio di sincronizzazione vediamo anche quanto impiega la sincronizzazione direttamente sul dispositivo non è velocissimo per quanto riguarda la sincronizzazione del quadrante direttamente dall'app all'orologio un pochino più veloce quando invece andiamo a sincronizzare un quadrante che è direttamente presente sull'applicazione mentre quelli creati da noi va un pochino più a rilento una volta che la sincronizzazione è completata come vediamo avremo creato un quadrante personalizzato tornando indietro abbiamo quindi la possibilità di avere tantissimi quadranti ma sono veramente tantissimi secondo l'applicazione ce ne sono all'incirca più di 100 io ne ho misurati più di 300 quindi ho conteggiato più di 300 quadranti presenti all'interno del dispositivo ce ne sono di tutti i gusti sia con quadrante analogico che con quadrante digitale quindi abbiamo la possibilità di scegliere giorno per giorno il quadrante che più ci interessa che più ci piace in particolar modo non li ho nemmeno visti tutti ed ero arrivata a circa una misura di più di 300 ce ne sono veramente tantissimi alcuni interessanti alcuni sono brutti alcuni sono legati come vediamo al festival cinese alcuni alle festività natalizie alcune per il compleanno però è interessante notare come diciamo un orologio che costa su tema circa 20-25 euro se andiamo ad acquistare poi alcuni rivenditori differenti che però utilizzano la stessa app Gloryfit ne possiamo trovare anche a meno di 20 euro spesso lo troviamo in offerta a meno di 20 euro e come vediamo ci sono veramente tantissimi orologi tantissimi watch face che possiamo andare a scaricare interessanti sono per esempio quelle che mostrano comunque tanti dati come ad esempio questo andiamo a sincronizzare viene effettuato innanzitutto vengono scaricati i dati e poi viene sincronizzato il tutto ricordo che l'orologio ha un display da 1.39 pollici è che la risoluzione del display è di 360x360 non è diciamo altamente definito ma in particolare non ha nemmeno una risoluzione bassissima come vediamo nel caso dei quadranti che vengono sincronizzati con l'orologio il passaggio tra lo scaricamento del quadrante e la sincronizzazione con l'orologio è più veloce rispetto al quadrante personalizzato è possibile ovviamente impostare andando nelle impostazioni è possibile anche impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione poi abbiamo anche la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca l'ossigeno del sangue le notifiche delle chiamate le notifiche degli sms quali promemoria delle app ricevere possiamo impostare il promemoria di tutte le applicazioni l'avviso di sedentarietà la possibilità di sollevare il braccio per attivare lo schermo un sms di risposta nel caso in cui ci venne effettato una chiamata che non l'avevo impostato possiamo in particolare rispondere con questi messaggi preimpostati quindi come vediamo ci dà la possibilità di utilizzare questi messaggi preimpostati e quindi rifiutiamo una chiamata e poi viene mandato un messaggio poi abbiamo la possibilità di eliminare tutti i dati registrati di aggiornare il firmware non so fino a che punto verrà aggiornato e nelle impostazioni generali c'è agita per scattare una foto agita per scattare una foto che è una funzione comunque molto interessante quindi io agitando l'orologio posso diciamo mettere come vediamo ho agitato l'orologio e viene effettato direttamente uno scatto oppure nelle impostazioni generali c'è anche il cerco il dispositivo quindi cliccando qui abbiamo la possibilità di fare mettere una sonneria dall'orologio per cercarlo nel caso che l'abbiamo perso oppure abbiamo una sonneria che cerca invece il telefono collegato all'orologio c'è la modalità dell'orario 12 ore 24 ore o secondo l'orologio impostato nel telefono è la lingua del dispositivo quindi alla fine un orologio che costa davvero poco che comunque registra abbastanza bene i parametri soprattutto sonno, battito cardiaco e saturazione del sangue un po' meno la pressione e la respirazione per quanto riguarda le modalità sportive fornisce poche informazioni ma ci sono tantissime diciamo sport selezionabili ovviamente vanno impostati manualmente un orologio interessante perché pesa poco un vetro diciamo di protezione nella parte anteriore che è abbastanza poco oleofobico quindi le impronte si notano bene la migliore cosa sarebbe quello di proteggere con un vetro protettivo non in plastica ma in vetro temperato con una leggera inclinazione 2.5D i bordi non si vedono, sono presenti da spento si nota che lo schermo ha questi bordi piuttosto grandi ma dato che è tutto impostato con sfonto nero praticamente una volta acceso come vediamo questo non si nota a questo prezzo è un prodotto interessante ha le sue pecche però comunque può essere un'interessante idea regalo per chi ha bisogno dell'orologio solamente per la sveglia per avere le informazioni orarie oppure per accendere o spegnere per poter effettuare gli scatti telefonici oppure per poter effettuare una telefonata meno nel caso in cui invece vogliamo l'orologio per registrare le nostre attività sportive perché in quel caso è meglio orientarci verso altri dispositivi grazie grazie